Eccoci, nuova puntata di Facciamolo, nuova stagione di Facciamolo, come primo ospite abbiamo il signor Diego Nasca. Buongiorno, buonasera, non lo so, bello, primo ospite io. Sì, 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 primo ospite della nuova stagione, grazie di essere qui. Grazie a te per l'invito. Tu sei il punk, fondamentalmente, cioè posso presentarti così, poi a me non piace tantissimo presentare gli ospiti, mi piace quando si presentano loro e quindi io ti volevo chiedere un pochino della tua storia. Tu vieni dalle Marche, hai fatto il punk, sei diventato il punk partendo dalle Marche. Dalle Marche, da Villa San Filippo, 800 abitanti in provincia di Macerata. Sì, dalle Marche, mi sono trasferito qua a Milano, questo forse è l'ottavo anno che sto qui. Eh, a Milano, ne ho passate tante a Milano, divertenti e non, però tutto quello che ho passato mi ha aiutato per arrivare. Ok, com'è stato il tuo percorso? Allora, io ho iniziato nelle Marche, quando ero ragazzino, all'artistico. Ho iniziato che facevo i pezzi sulle basi di Eminem. Ok. Perché era troppo difficile fare una band, troppo sbatti, non c'avevo voglia, facevo l'artistico. Ok. Ah, non c'era quel vibe tipo giornata dell'arte, all'artistico, tutte le band, i compagni? No, da noi no, da noi era più Colle del Fomento, Fara, Roba, Pop, andava più quella roba lì da me all'artistico. Quindi c'hai quella matrice lì un pochino? Un pochino sì, anche se quelli pop lì non l'ho mai masticato troppo, ero più sul Fabi Fibra, Mister Simpatia, quella roba, mischiata ai Green Day, ai Nirvana, ai Blink, ai Sun 41. Però d'italiano sentivo Mister Simpatia. Album tranquillissimo. Sì, sì, album che mia madre mi ha buttato via più volte. Sì, lo sai pure a mia madre, quando sentivo Fabi Fibra e diceva che cosa stai sentendo. Rimasterizzavo io con mio padre su Nero, come si chiamava quello di Nero, per fare i cd masterizzati. E mi pare si masterizza anche i cd miei. Io gli mando i provini, lui li scarica e si rimasterizza per sentire in macchina, e poi quando gli do quello nuovo lo lascia chiuso. Te fa lui il car test di master. Sì, sì, esatto. Quindi ecco, dall'artistico i primi pezzi. Poi mi sono trasferito a Milano, e a Milano, piano piano, con anche lì il Pip, che usciva il Pip e l'Emo Trap, che ricominciavano a tornare fuori le prime chitarre elettriche. Ho detto, passiamo direttamente allo step successivo, adesso che c'è l'Emo Trap. Portiamo direttamente il Pop Punk, quello che sentivo da piccolo, no? Che adesso, secondo me, questa Emo Trap è solo un pre-ritorno a quella roba lì. Quindi ho detto, anticipiamoli. E ti sei buttato subito. Mi sono ributtato sul Pop Punk. Poi dopo, per me era un po' più easy, perché il rap, sì, bello, perché mi piace scrivere le canzoni. Però quella musica lì è quella che più ascoltavo, no? Quella che senti più tua. Esatto. E quindi mi sono ributtato su quella roba lì. E è andata bene, adesso ho fatto due dischi in due anni. Mi diverto anche perché vado sempre in studio, non so che cazzo fa, se no... Tu come lo vedi il discorso, tipo, ci sta un po' il dibattito che il musicista deve fare un disco l'anno, più o meno, no? Cioè, chi dice, se non fai dischi, che fa il musicista a fare? Tu come te l'avevi questo discorso? Cioè, hai un flusso creativo perpetuo in cui magari fai un disco l'anno, un disco ogni due anni? Oppure magari ti prendi le tue pausine? Ma non è proprio perpetuo, ho molti blocchi, no? Spesso capita avere il blocco dello scrittore. Eh sì, sì. Però io lo vedo molto che la musica sia una passione che un lavoro. Perché comunque è il mio lavoro. Io ho sempre lavorato, quindi ho la cosa del lavoro in testa. Ho la mia routine e tutto quanto. Essendo un lavoro io cerco di impegnarmi a farlo, lavorare. Cioè, vado in studio, lo chiamo lavorare, ma per me è bello andare in studio, capire? Non è un peso. Poi magari se capita il giorno in cui non scrivo un cazzo... It is what it is. Eh esatto, cioè, il giorno dopo ci riprovo. Ok, ok. E non devo per forza far uscire un disco all'anno. A me piace far uscire musica perché se no la tengo lì. Che fare? Ok. Che serve? Non sai come Cagni che ha sette dischi a released? Non so se si è vedevo ultimamente e esce tutta... No, non me ne frega un cazzo quella roba lì. Ok, ok. C'è a zero. Tipo ogni tanto mi capitano i post tra i Scott, vengono con la valigetta perché dentro c'è... Bravo, bel marketing. Penso al marketing e dico, beh, è l'idea. Però tipo non ho ascoltato nel disco di Drake, nel quello di Kanye West. Chiaro, chiaro. Sì, anche quello vecchio di Kanye West. Chiaro. Ascolto in discoteca di... Di rimando in disco. Esatto. Ok. 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 E... Hai fatto uscire un disco in recente. È uscita anche la Deluxe. La Deluxe una settimanella fa. Yes. E... Io me lo so sentito, chiaramente. E ho spulciato un pochino di pezzi perché chiaramente a me piace... E poi me occupo di roba relazionale e sessuale. Sì, sì, lo so, lo so. E... E ho pescato un po' di roba, tipo, in Tranquillo Mai, che credo sia proprio un pezzo della Deluxe. Con Madman. Con Madman. E spone una visione un po' scazzatina delle dinamiche di frequentazione, la partita a scacchi, tipo quella che ti scrive. Sì, sì. Questa roba qui, come te la vivi tu? Allora, io ne ho parlato anche all'Unplugged che ho fatto, no? E dico che... E ne dicevo che tutte queste strategie, quelle strategie da stronza che dico lì, secondo me sono un po' inutili. Capisco che all'inizio servono... Cioè, no, al fine non servono, però ovviamente funzionano. Sì, funzionano un po'. Dipende che reazione... Io sono il tipo che se mi dici di no poi mi incarognisco, no? Si dice se mi incarognisco. Quindi capisco che possono funzionare, però te la vivi male. Se la vivono male, penso, le coppie o chi comunque è un po' più... Quindi te te incarognisci un po' che... Col no. Col no sì, tantissimo. A me una cosa che mi discono è quando vedo che sta a fa la Winx, io dico... Quando fanno così la Winx... Ok. Mi dico... Che stiamo a fa'? Cioè, cazzo, siamo 75 anni, devo fare giochetti. Esatto, è una roba un po' più da bambini, quella roba lì. Però capisco che funziona. Cioè, almeno su di me funziona, però comunque... Non lo sopporto. Anche un po' una cosa che fanno... Io sono chiaramente un minimo esposto, un minimo, però percepisco che da quando magari lavoro sui social, ho qualche numerino, cose del genere, c'è un po' quel tipo di ridicenza. Poi vabbè, te sei Nasca, quindi... Immagino, no? Che hanno quel tipo di percezione, magari luce natante, quindi io mi devo rendere speciale in qualche modo e non me lo cago, così lui... Così lo tiro a me. È successo. Funziona, te dico, funziona. Con Nasca funziona, abbiamo il Passpartout per... Cioè, funziona... Ok. Raramente. Ok, ok. No, a me è una cosa che dico, cazzo... Cioè, pure se vedi i follower sono normali, cioè non serve che mi fai tutti i trick... Però... Però lo fanno, lo fanno. Però raramente io inizio sui social, li preferisco la prima persona. Ok. Beccarla, capito, magari in giro. Chiaro, chiaro. Eh, no, sui social è ancora peggio. Non mi fido più di... Nel senso, cioè, dico, perfisco beccarla in giro perché, tipo, non mi fido più dei social. Face app, tutte quelle app, io non mi fido. Ok, ok. Cioè, è la cosa, tipo, che devi avere... Esatto. Cioè, perfisco beccarla in discoteca a parlarci lì, perché... Che pure in discoteca dipende uno come sta, se no Face app lo fanno... Però per fortuna mi riprendo sempre il giorno dopo. E la vai a vedere su Instagram e dici, ok, dai, c'è lo so. No, 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 non lo faccio più questo errore, non apro più Instagram e non cerco più niente. Ah, ok. Come mai? Sì, sì. È capitato che... Cazzo, rubriaco, ieri, eh. C'ho un amico che... Pure a me io c'ho la cosa e dico, magari se mi è capitato un intrallazzo con una persona in discoteca, dico, Dio, magari ci rimango male se non era proprio come mi ricordavo, no? Invece c'è un amico che dice, se al bugio ti piacciono o comunque in mezzo alla discoteca e non vedi tanto bene, se ti piacciono in quel momento va benissimo così. Va benissimo lo stesso. È una gran filosofia. Si sta, è vero. Domanda, diciamo, flippiamo un po' la roba. Vai, vai. Quanto soffre Nasca per amore? Perché tu c'hai anche tracce in cui esprimi questo tipo... Sono un bel sensibilone, non so come si può dire. Vanno bene tutte e due. Beh, tanto. Cioè, i miei periodi dove vado in fissa per una tipa, veramente non gestisco l'ansia, non gestisco la gelosia, vado fuori di testa come un ragazzino. Infatti dico a 25 anni ma sono un ragazzino perché proprio non le so gestire queste cose qua. Ok, però ce l'hai quella cosa tipo che quando soffri per amore scrivi 300 volte di più? Sì, scrivo molto. Tante canzoni vengono fuori proprio in quei periodi lì. Infatti cattiva è potente, no? Quanto si è messa un po' sotto uno tipo te possino, mannaggia, no? Stronza. Si sente un po' the heart feeling. Cioè, tipo, tu vuoi farmi piangere ma non ci riesci più perché sono diventato come te. Ce la spieghi un po'. Perché io ho avuto delle tre o tre relazioni. Tutte e tre sono iniziate con questa cosa qui, che ti dicevo prima, con il no. E io che impazzisco. Io che impazzisco e me le soffro estremamente. Perché non ho mezzi termini, non c'è il 50%. Cioè o zero o cento. Ok. E quando sto male per una tipa che vado fuori di testa, vado fuori di testa a cento. E dopo appunto tre o quattro relazioni, così, dove sono stato male, per l'inizio della relazione, alla fine adesso sono diventato un pochino più cinico, un pochino più freddo nelle relazioni. Ok, ok. E quindi dico, tu vorresti farmi piangere, ma non ci riesci più. Quindi è come se in risposta alla sofferenza, che è proprio un grande classico degli schemi umani, si è diventato un po' più reticente. Ok, ok. Cioè, almeno spero. Adesso magari la prossima volta starò male. Però meglio perché scrivo altre canzoni. Sì, no, c'era una cosa che dicevo, io per esempio scrivo poesie, e io se sto bene dal punto di vista affettivo non scrivo un cazzo proprio. Non scrivere male per scrivere bene, non mi ricordo chi lo diceva, però... Sì, è quella roba lì. Pure di Dante, se non soffriva per quella cazzo di Beatrice. Tutti avevano Dante, Beatrice, Leopardi, Silvia, tutti quanti avevano la sua musa ispiratrice. Sì, la loro stronza, la loro cattiva. Si scherza chiaramente, non vogliamo essere misoggi. Lo siamo ma non vogliamo essere. E ok, ok. E invece... Pensa a Dante che sbatti. Inferno, Purgatorio, Paradiso per una figa. Sì, no, capito. Numero uno. Io penso che c'era Tinder e che cazzo gli è successo. Era finita. Però ha scritto una commedia tuttora bestseller, c'hai capito tanto. Bisogna ringraziare il fatto... Che poi alla fine... La beccata Beatrice oppure no? No, no, no. La beccata vera? No? Mi pare proprio che no. Ok, abbiamo anche il faccio... No, magari stavo per fare la figura del merda. Cioè era tutto un libro di Dante. Vabbè, nel Paradiso la becca. Nel Paradiso non è lei che fa la guida? La vede, la vede. La vede? La vede. Però non... Non lo so, ragazzi, ho studiato... Sì, io pure, 70 anni fa stacolo. Però non credo abbiano mai linkato dal vivo. Non gli ha chiesto il numero, niente. Non è riuscito. Ha fantasticato. Ha scritto le tracce. Ha scritto bene, però. Ha scritto benissimo. A testa in giù può essere considerato... Cioè io ho visto un po', ascoltando il disco, c'è il lato un po' preso a male, il lato quello un po' più reattivo e il lato un po' più smignottoso. Cioè tipo... A testa in giù è la traccia un po' smignottosa. Solo dico sempre che siamo in due a scrivere i dischi. Diego è quello un po' più sensibile, quello un po' più triste, quello un po' più... che va più a fondo nelle cose, no? Scava anche molto più dentro se stesso. Nasca invece è il cazzone che mi piace, droga, sesso, rock and roll, capito? Ok. E ciò racconti, Nasca? Ah, è Nasca? Non posso descriverlo meglio di droga, sesso, rock and roll. Ok, perfetto. Nasca è quello di a testa in giù, vieni a casa mia, porta l'amica, siamo in treno, non ti preoccupare, mi spacco, faccio schifo. È quello. Quello che viene fuori almeno una volta a settimana esce fuori. Ah, ok, cioè proprio l'appuntamento con Nasca. Una o due volte a settimana. Ok. Tipo De Masca, no? Jim Carrey quando si mette la maschera. È fottuto sabato comunque. È sempre lui. Però è più uno. Però è quel Nasca che stava in discoteca ma quella sera si è preso un po' male. Ok. E quindi vuole uscire, vuole andare via. Ce l'hai la cosa tipo la domenica? Dici cazzo. L'hangover. Ce l'hai un po' l'hangoverino? Io a Milano ho collezionato domeniche dove mi svegliavo e dicevo ma ieri sera che cazzo ho fatto? Cioè proprio zero. A volte ho dei sabati che non mi ricordo. Dei blackout assurdi. E te capita tipo di avercela para? Perché ho scoperto una cosa che si chiama anxiety. Hangover più anxiety, no? Che non è una cosa che c'hanno tutti. È molto un discorso genetico del funzionamento cerebrale molto relativo alla persona. Io per esempio chiaramente ce l'ho e qualsiasi cosa io abbia fatto anche la serata più tranquilla che però magari coinvolgeva la quantità d'alcol necessaria e sto un po' in hangover il giorno dopo e vado super impara. Tipo oddio ho fatto qualcosa che non va a tutte queste cose qui. Cioè ti capita mai? Sì però appunto quei sabati in cui non mi ricordo che cazzo ho fatto. E fai qualcosa? Cioè mi viene mega ansia e dico no. Che avrò fatto sicuramente mille figure di merda ieri sera. E ti capita mai di poter andare a chiedere tipo agli amici che stavano con te? Il problema è quando mi rispondono che cazzo ne so. Mi mandano foto, video. Sì sì. Te fanno le foto e te fanno i video? Maledetti. Sì sì. C'è una dell'ultima serata di un blackout era al Red Valley che abbiamo suonato a Ferragosto e proprio c'è il video di Lusorio che dice questo te lo farò vedere domani. E come hai reagito? Come te lo sei vissuto? Ho riso. Ok. Perché alla fine ero chiuso nel camerino e non mi hanno fatto uscire. Perfetto. Quindi io non ho fatto danno. T'hanno pure tutelato. Sì sì. È l'unico video che fa ridere che stavo lì camminando e poi passano io. Venti minuti bloccato. Sei rimasto la... Sì però non è stato una figura in merda perché stavo fermo, bloccato e poi lo vanno chiuso nel camerino. Perfetto. Vabbè, bomba. È andata bene. Sì sì sì. Ciao Elodie. Ciao Elodie. Ti salutiamo quando vuoi venire e facciamolo. Pure con l'asca. Te lo portiamo sopra così interagite. Non sto zitto. Non te blocchi. Ok. Invece il Diego che ci dice? Ti va di parlare un pochino di come sei in amore nelle relazioni? Prima hai detto 0-100. Esatto. Partiamo da quello lì. 0-100. Non ho mai avuto mezzi termini. Tutte le relazioni mie partono dal no. Ok. Io che provo in tutti i modi a conquistarla ma che in quel lasso di tempo me la vivo malissimo. Male. Panico totale. Che fortunatamente sfogo con la musica, con un paio di gin tonic troppo. Riesco a sfogarli così che non mi piace in realtà. Cioè non vorrei... E la bevuta reattiva... No, vorrei gestirle meglio queste cose. Non saprei da dove iniziare a prendere lezioni perché sto qui penso non esiste. No, esistono magari... Cioè se uno riconosce lo schema affettivo ricorrente che ci sfonda ci sta il modo. Beh, magari... mi hanno detto vai dallo psicologo. Eh no, anche. Assolutamente. Infatti. È solo che ho paura che se vado dallo psicologo... Esce fuori il panico, dici. No, no, no. Non che esce fuori il panico che esce fuori quello che devo uscire fuori. Esce fuori una cura. No, una cura. Un modo di... Un percorso. Un percorso per... Metabolizzare meglio quei momenti e roba così. E che poi però non ho più lo sfogo dello studio di andare in studio e scrivere la musica su quel momento lì. Perché riesco a gestirlo. ho capito quel momento. Ok. Quindi ho sta paranoia che ti smonti la creatività. Esatto. E quindi non ho organizzato nessun percorso dallo psicologo. Cioè che non so? Cioè te lo dico da persona che è stata da nove anni in terapia io comunque faccio anche cose creative oltre al percorso un po' più alla professione. Sì, sì, ma questa è una paranoia mia. No, no, ma te lo dico perché so cose che ho pensato pure io. Tu pensi che io prendo la lamotrigina che è uno stabilizzante dell'umore. Tra l'altro a questo discorso mi ricordo lo facevo con te Carlo sul discorso della lamotrigina che stavo provando rimuove per il discorso della creatività e poi lo sì, lo facevo con Carlo e era un periodo che stavo bene perché la prendo da anni era un periodo che sto a posto e almeno se la tolgo io poi so ciclotimico quindi la fase un po' più ipomaniacale è quella di esplosione in creatività proprio che fai non dormi fai fai tutto fai tutto e crei tantissimo e ho detto non me la ricordo più com'è perché con lo stabilizzatore l'umore è una cosa che è diventata più equilibrata e magari ce l'ho però è una cosa che non mi intossica più e c'ha tutto diciamo il downside della cosa è meno impattante ho provato a toglierla ho scapocciato totalmente per tre mesi ho detto ok riprendiamo tutto subito e devo dire che comunque c'è l'equilibrio che ho trovato nel corso degli anni tra la terapia e tra la terapia farmacologica è una cosa che mi consente comunque di funzionare senza che poi magari faccio il panico questo così non come indicazione però per riportarti la mia la mia esperienza però capisco benissimo come ti dicevo prima il discorso di non soffro l'amore le poesie non le scrivo io poi ho fatto pure musica e wow tutti album super tristi e cose del genere la miglior musica viene fuori un po' dal dolore c'era un detto era art never comes from happiness è un po' quello sì ok e quindi partono sempre così più o meno le mie relazioni poi io sono un mega romantico ma a livelli eccessivi quando mi innamoro ti capita mai che magari le persone con cui approcci si aspettano da te magari si aspettano nasca e poi scoprono Diego ah ma nelle relazioni stanno insieme a tutti e due li conoscono benissimo non nascondo né uno né nascondo né l'altro ok cioè poi magari come mi sveglio la mattina c'è il giorno che sto a Diego sul computer con le canzoni tristi sotto mi metto scrivo un po' e c'è il giorno Diego che dico ah beh ho fatto pranzo parto con la Mari adesso sono passate le 13 è ora ok ok e che c'era l'intervista di Drake quella con gli octi mi sembra e lui diceva proprio la gente viene da me quando escono con me e mi dicono ma io non pensavo tu fossi così no e questa è una cosa che magari rispetto un po' al personaggio non so se ci è mai capitato sì magari a volte si aspettano solo il Nasca capito ok eh no quello non si aspettano cioè ah no sì si aspettano molto più il Nasca invece poi quando magari passano due giorni con me vedono che in realtà io sei un cucciolo sono un cucciolone dicono ah e poi si innamorano ecco ecco qua quindi Nasca è per conquistarle Diego è per falle innamorare esatto ok ok perfetto un'altra cosa importante ti volevo chiedere in riferimento al discorso carriera più relazioni che è una cosa che non cioè secondo me verticalmente facilmente insieme si creano dinamiche super strane ed è difficilissimo magari trovare persone che si hanno in grado di capire già solo capire un determinato tipo di carriera che uno va a fare no magari il periodo del tour il periodo anche della scrittura cioè il fatto sto scrivendo non mi devi rompere il cazzo magari ci può stare come aspetto oppure tutte le gelosie perché immagino te con l'esposizione che c'hai col fascino da da Roxara che c'hai ti crevano ti saccollano un botto vada come Dio te benedica frate e come come te la cavi cioè come come la gestisci come riesci a creare una sorta di equilibrio tra il discorso carriera e relazioni allora io sono questo qui cioè come ti ho detto prima io mi presento e sono sia uno che l'altro trovo la persona che capisce che cioè se mi scrivono e non è gelosa guarda sto lavorando devo andare in studio una settimana sto chiuso lì cioè mi scrive ma capisce anche i momenti e tutto e apprezzo e amo quella roba lì poi se trovo quella persona che non non capisce la gelosia cioè non capisce che mi scrivono sì per forza devo andare in studio che non posso stare sempre al cellulare che non posso litigare non posso perdere la testa per altre cazzate e così a mano a fanculo ciao bella no 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 assolutamente comprensibile cioè è proprio difficile cioè a quel punto la roba da dire te riesce in altro esatto cioè non puoi stare con me sì no è roba che bisogna imparare a capire ma come tutte le carriere qualsiasi tipo di carriere cioè comporta uno stile di vita comporta determinate cose e questa è una cosa secondo me importantissima da far capire perché ci stanno quelle persone però bisogna metterlo in chiaro subito sì 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 cioè secondo me metterlo in chiaro non fare finta all'inizio di essere un'altra cosa no no sempre presente al 100% e tutto e poi dopo fare lo switch e dire guarda è finito c'è un tour di quattro mesi ciao bella no 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 però è la chiarezza sin da subito essere sinceri secondo me è importante tu sei monogamo? no ok volevo capire volevo chiederti chiaramente se per te ho un argomento e sei tranquillo a parlarne magari sono stato all'inizio perché appunto ero molto geloso molto gelosissimo andavo fuori di testa poi ho preso un botto di corna ok quindi non era per me la poligamia poi a mano a mano crescendo andando avanti prendendo anche un po' più esperienza col sesso come col cioè non col sesso scopando nel senso con la sessualità ho capito come scendere le due cose magari col sesso e l'amore e quindi adesso una volta un'amica mia mi disse se tu stai con una persona dal punto di vista sentimentale ma vai a letto semplicemente a letto con un'altra persona e senti di non aver tolto dentro di te niente non è tradimento no io con lei faccio l'amore e magari in tour oppure quando capita che voglio faccio il sesso e basta sono due cose ben distinte però non è facile scenderle cioè per tutti non penso che sia un argomento facile e poi la cosa importante è che ci deve essere il consenso non monogamia consensuale perché la gente pensa che quando uno fa su discorso eh no vabbè ma se te tipo una pompa non è tradimento non è così è una cosa consensuale poi è ovvio che deve esserci il consenso da tutte e due le parti sì 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 che se non è tradimento e basta sì no infatti se no è uno per me dico ma non è tradimento perché sto facendo solo sesso però lei glielo dico no ovvio no no deve essere super consensuale però è importantissimo questo concetto cioè tu hai detto proprio che anche sperimentando capendolo e questa cosa ti ha aiutato anche sulla tua di gelosia sì ovvio sotto sarò sempre geloso un po' però molto meno di prima anche perché se io voglio poterlo fare cioè se voglio fare il cazzo che mi pare devo lasciare all'altra persona la stessa libertà altrimenti non sarebbe giusto no sì sì assolutamente quindi la gelosia devo un pochino attenuarla io e basta poi è anche normale provare gelosia pure nelle relazioni aperte ovvio infatti c'è sta chi condivide c'è chi ne parla chi no io per esempio non ne voglio sapere proprio niente quello che cazzo ti pare lavati proteggite ma io non lo voglio anche io so per quella filosofia lì cioè reazione aperta se ti capita fallo ma non dirmelo il giorno dopo che è da roba da pazzi non voglio saperlo no se si crea un ambiente condivisivo che gli prende bene e condivide nella coppia ok no no comunque se si condivide comunque un filo di gelosia sotto ci sarà sempre e magari dopo che lo condivide una volta lo condivide due lo condivide tre dai troppo dopo lì no meglio occhio non vede cuore non due come le corna con corna sì sì tu per esempio l'ho sempre sgamato le corna ok ok io pure in modi pazzeschi ma sempre hai fatto il detective una l'ho già raccontata non so se con te tra del gatto minchia vabbè faccio breve avevo questa tipa qui che parlava sempre con questo tipo della sua compagnia che aveva questi due cazzo di gatti un giorno io torno da lavoro stremato a casa mi metto sul letto l'abbraccio e comincio a starnutire occhi rossi mi faccio cazzo perché che hai fatto tu oggi pomeriggio niente stavo a casa risponde vieni qua dammi la felpa trofino in faccia occhi proprio gonfi gonfi ed agli ho capito che era stato a contatto con dei gatti siccome già mi puzzava la storia dell'amico suo ho sgamato le corna tremendo cioè hai rischiato uno shock però ha sgamato le corna assurde wild punk da mori sta cosa bellissima è una cosa e poi mi sono preso il cortisone mentre piangevo con l'occhio spucchiato la faccia come beh che scena te credo che poi in realtà hai detto vabbè tosta tosta cazzo no la domanda originale era lo vuoi sapere o no cioè se ti mettono le corna concettualmente ipoteticamente no no manco io cioè io è una cosa che tipo nella relazione aperta non so accordo no 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 ovviamente e non le voglio sapere però in monogamia in monogamia non la faccio in una relazione monogama quindi dici ormai questi ragazzi però io concettualmente per esempio in una relazione monogama non lo vorrei sapere no no se sei brava nascondimelo sì se sono più bravi a scoprirlo metti in culo poi cioè no metti in culo ti mando a fare in culo è bello c'era un detto che diceva chi tradisce lo confessa e se non c'è due volte uno perché ha tradito due perché l'ha confessato perché è vero fa male sì fa male cioè già mi hai fatto un torto non dirmelo perché se me lo dici me ne hai fatti due cioè uno mi hai fatto già il torto e due mi hai fatto sta ancora più male sì e poi è un po' uno scarico di responsabilità sì e poi anche una volta che becchi le corna io ho continuato una relazione con la tipa del gatto dopo le corna ovviamente qualcosa si era rotto quindi comunque a mettere le corna oppure scoprirle così rovinerà sempre o meno la relazione se c'era fiducia non ci sarà più sì va ricostruita tutta da capo è una cosa molto complessa molto complessa ci sono coppie che sopravvivono al mi pare che c'era uno studio o un qualcosa che diceva che le coppie che sopravvivono ai tradimenti sono le coppie in cui la persona che tradisce smette di farlo e si impegna per non farlo più la persona che tradisce io la vedo come molto più come il lupo perde il pelo ma non il vizio ok dopo i gatti mi ha rimesso le corna un paio di mesi dopo chiamate subito anche quelle però me le ha dette quelle ah ok sì perché stavamo finendo la relazione era proprio per far col coltello chiaro stronza no il discorso del lupo perde il pelo non il vizio concordo abbastanza nel senso che ci stanno pure studi che vedono che persone con determinato tipo di attaccamento tendono ad avere proprio quel tipo di schema che si ripropone in ogni relazione che ci hanno ok per esempio non vogliamo generalizzare chiaramente sono studi che legano l'attaccamento la predisposizione studi che non abbiamo fatti noi li stiamo citando li stiamo citando perché li ha letti e praticamente vedono che gli uomini con attaccamento evitante quando tradiscono tradiscono con uno schema molto preciso che è io mi leggo una persona però tendenzialmente sono evitante quindi voglio la mia indipendenza e voglio non voglio denudarmi emotivamente mi tolgo non voglio denudarmi emotivamente quindi nel momento in cui mi sento vulnerabile nudo attaccato a una persona per riaffermare la mia indipendenza mesco con un'altra persona mentre la donna con un attaccamento ansioso solitamente ha la cosa che nel momento in cui non gli arrivano tutte le conferme necessarie di amore di validazione e tutto quanto va a cercare un'altra persona certezza in un'altra persona in altre lenzuola se vogliamo essere eleganti e quindi e quindi ci stanno magari delle persone che perdono il pelo e lo lasciano perso che il tradimento è un po' uno strumento diventa un po' uno strumento io per esempio di recente ho smesso a me è capitato nella vita ogni tanto di fare da amante però di recente ho smesso perché la posizione è molto comoda fondamentalmente non c'hai molte responsabilità ti fai la tua bomba zero al massimo può essere che te provano a menare però gli rimeni e stai a posto finisce l'anno però poi è una cosa che ho smesso di fare non tanto per un discorso morale anche perché io c'ho un po' il concetto che una persona se fa l'amante non è tanto la responsabilità sua quanto la persona che tradisce se vogliamo poi non mi piace guardarla in modo così dicotomico però a volte c'è da capire che l'amante il tradimento è semplicemente uno strumento per motivo X in cui la persona tradisce ciò che vuole comunicare ciò che vuole riaffermare e quindi a volte la roba pure per tutti i confronti che si fanno ma hai tradito con lei chissà lei che c'ha più di me quella magari era una sera che ti era successo qualcosa a livello di queste dinamiche qui è diventato uno strumento magari uno strumento con bel culo oppure o con un bel fisico lui un bel fregno lo sai che non ho mai tradito in vita mia davvero? ho stato fidanzato la prima volta a due anni la seconda un annetto e mezzo e l'altra un anno mai tradito sei un king della monogamia? eh quando ero così non tradivo perché avevo paura del karma ok ok vabbè boh non lo so se è bello da dire però avevo paura del karma e anche perché quando io stavo con una tipa ero full con lei e quindi non trovavo nemmeno voglia a tradire andare con altre chiaro chiaro però non mi è mai successo di tradire però figo che subito quando quando magari ti è capitato la vita ti ci si è portato hai subito abbracciato un'altra prospettiva e la gelosia hai detto sì ok io sono molto geloso però allo stesso tempo devo cercare di capire come coadiuvare la mia carriera l'amore che voglio da una persona e la mia gelosia in una dimensione più sana possibile ma un switch è così eh piuttosto all'improvviso? sì sì o è stato un processo? ok all'improvviso anche perché sono circondato da amici che hanno relazioni aperte ne parlano e ho detto perché no però una cosa bella è che l'hai sentito sul lato pelle cioè tutto il discorso magari di intellettualizzazione che una persona deve fare solitamente per aprire una relazione tu hai detto cazzo ma io non tolgo niente a nessuno nel momento in cui la cosa è consensuale e scegliamo di farlo anzi te la vivi molto meglio una relazione perché magari quando sei monogamo però come me ti hai tante le pare no 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 sto in tour cioè comunque è facile quella sera andare a letto con qualcuna diciamo sì 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 ma immagino però siccome io tradire proprio una cosa che non riesco a fare io direi avrei sempre detto di no però comunque vai sul letto un po' armagnato un po' tiro del culo invece se quando capita capita il giorno dopo non tiro del culo e stai molto più tranquillo no sì sì e allo stesso tempo non si creano manco dinamiche di gelosia ma nemmeno che litighi per cazzate perché stavi nervoso che volevi fare quella chiavata e non l'hai fatta e magari non senti la relazione come un peso esatto e te la vivi molto meglio questo è un pensiero che mi sono fatto io no 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 credo assolutamente che scherzi assolutamente no tutte le volte che le persone che ha vita che dici c'ho quell'occasione quella persona però sono fidanzato fidanzata è una roba che non lo faccio sì un po' ci pensi ti roda il culo ti nervosisci e per la minima cazzata litighi capito e tante persone mettono in discussione pure la relazione oddio ho provato attrazione per qualcun altro se vede che c'è qualcosa ma l'attrazione fisica è una roba animale cioè proprio cioè siamo animali sì sì assolutamente cioè è importantissimo capire che se uno sta fidanzato innamoratissimo vede un'altra ragazza e dici perché no cioè può stare come pensiero no cioè è una cosa super umana e invece magari le persone dicono no cazzo ho pensato perché la monocamia viene concettualizzata come qualcosa di super esclusivo in cui non devi guardare manco quelle chiappe che stanno lì sì negli anni settanta sì però c'è sta pure nella domina e sta roba è è brutto per la persona che sperimenta quel senso di di inadeguatezza e magari di problematicità di fronte a una persona semplicemente attraente e dovrebbe essere giustissimo capire che quella persona è semplicemente attraente e ci attrae e ci sta e io comunque ti ho visto al Miami super energy sul palco ho volato era la prima data quella lì quindi era un po' ancora eh no però hai fatto il bagno stavano tutti così sì sì e e mo a Milano suoni al Fabric ti fai due date due date che non avrei mai detto non avrei mai detto la prima è andata sold out tipo in qualche ora bella complimenti assurdo non che è sold out il 30 giusto il 30 mentre il 29 abbiamo aggiunto una data il 29 e quella lì anche i pack finiti mancano un po' di biglietti quindi andiamo a vedere tutti Diego al Fabric a novembre il 29 e ok ok ora arriva la parte un po' un po' scomoda di facciamolo che è quella in cui ti chiedo un po' di tuoi opinioni sul sesso e tue esperienze sul sesso vai vai non è scomoda e te ma qui si può fumare no sull'altro mi ricordo qualche pettina sull'altro siamo diventati tranquilli e se vuoi fare una pausetta la facciamo no no allora io faccio una rubrica il giovedì che si chiama esperienze bruttine in cui invito le persone a raccontare esperienze imbarazzanti a letto e quindi vogliamo saperne almeno una di Nazca ok forse alle prime armi tipa che volevo da mesi e mesi dopo mesi e mesi di lavoro per conquistarla al petting sborro hai detto anteporta prima proprio un attimo in bagno vabbè però come l'hai gestito sì certo che succede in bagno ho detto scusate forse andare in bagno metto a letto metto il preservativo due secondi sborro perfetto quindi hai fatto proprio è brutto dire sborro tagliamo la no no la pipiamo che ci importa va benissimo due minuti veramente proprio tenendomi largo al terzo round al terzo round è andata normale bene su quei 20 30 minuti vabbè a diesel che però posso dire dopo i 30 minuti è una tortura ti ha messo tutti i coglioni dopo mezz'ora no sì più che altro come fai cioè nel senso ma avevi detto che erano prime esperienze magari c'era quella roba tu sei tipo da KO al primo round oppure fai più più round durante il giorno ah dipende dalla serata ok ok dipende dalla serata no c'è la sera che dico KO al tecnico alla prima la sera che dico avanti ti procede avanti ricominciate ok ok quindi c'è tre round per questa qui c'è che aspettative cioè due round sono durati tre minuti in tutto il primo nemmeno era un round stavano il primo scusa un attimo devo andare al bagno benissimo sì sto tornando con i pantaloni e le mutande diverse dici no volevo un attimo cambiare outfit che ho visto che non matchava troppo a livello di armocromia e quindi bellissimo volato facciamo una cosa si chiama underrated overrated ok quindi cose sopravvalutate sottovalutate a letto missionario a me piace il missionario quindi underrated pegora mia preferita ok però vengo subito ah ok ok pegora mia preferita è pazzisco con i pantaloni di un'altra marca già pronti già pronti i pantaloni di gambe toys da poco hai cominciato a sperimentare da poco? da poco come te ci trovi? allora il mio preferito cioè il mio preferito quello che vedo che è il succia clitoride favolare tiro fuori quello lì è tipo l'arma finale dici ok mo mo se va sul serio e quello è un grande aiuto quello lo spacca i toys non sono nemici ma sono amici che ci aiutano però sento tipo di amici che non vogliono usarli perché dicono quello funziona meglio di me no devi usarlo insieme non devi usarlo e tu guardi così da dei lato infatti ma poi pure se lo usa insieme non ti sostituirà mai no ovvio mica ti scrive su whatsapp e su cagliitoria magari però gli arrivano notifica gli arriva la notifica ci stanno quei toys a voglia ce n'è uno su cagliitoria incredibile che c'ha sia la gestione della vibrazione che del risucchio la potenza del risucchio ed è fighissimo quello lo lascia la parte e tu ti metti lì e fai esatto e per uomini l'hai mai provati da per pene no ce ne sono una casa di un amico mio sa sto culo di plastica che si appoggia sopra il tavolo però no io non l'ho mai provato ci sta qualcosina poi dopo ne parliamo ci sta lo spinner che è la vita io so fa una promozione lungo facciamola sto cazzo di spinner perché ogni puntata magari quando esce fuori il discorso toys che cos'è lo spinner è praticamente un tubo di silicone chiuso sopra in cui ah certo fa una figa e dentro c'è tutto c'è la vagina finta sì però non c'è la vulva c'è semplicemente un buco poi ce ne stanno pure e dentro c'è tutta una texture ma ce ne stanno tipo 3-4 sì sì ce l'ha un amico mio è incredibile l'ho visto l'ho tirato fuori questo tubo e ho detto no ma che è ho aperto ci ho messo dentro perché era nuovo ah ok non ero usato vabbè i toy vanno lavati quindi magari e ho capito che texture dici sì sì è fenomenale oppure il cock ring vibrante che è figo è una sensazione molto strana l'anello l'anello quello vibrante è figo perché magari invece fa un tipo di stimolazione dentro fuori lasci dentro e ti muovi col bacino e stimola tutta la vulva e quindi è figo solo che a livello peniano ti dà un po' una roba che va capita è strano è strano io adesso che mi fa tenere voglia voglio provare quello lo spinner però con VR ragazzi solo che le migliori seghe le ho fatte col VR a me non mi è mai capitato infatti non hai mai usato non hai mai visto porno col VR no non mi è mai capitato ti metti a piangere una volta ti emozioni e dici non è vero ma col pop chiaramente ovvio bellissimo no una volta cioè a Simone Panetti che ha conclino mio l'ha comprato un giorno è partito sono andato in camera sua vedo sto VR e dico ho messo in camera ho spento ho chiuso a chiave perché non si sa mai perché comunque c'è la musica quindi tu non senti fuori chiuso a chiave con i fazzolettini pronti pomeriggio satura perfetto quelle 6-7 ore sì sono tornato sono alzato dal letto che ero sciupato liofilizzato senza li quindi tipo scary movie proprio divento scheletro da provare da provare sì cena fuori underrated overrated non mi ricordo mai underrated mi piace cena fuori ok diciamo mi piace approvato approvato casa Netflix quella tipa ti piace? tutta la vita più casa Netflix o cena cena fuori cena fuori poi torno a casa casa Netflix giusto giusto non ci priviamo di nulla farlo in macchina se fanno non mi piace ok odio poi dipende dalla macchina quello chiaramente la smart è tremenda l'ho fatto in una smart odio odio farlo in macchina ho bisogno di spazio sì no ci sta ci sta io ero super fan l'ho detto pure più volte facciamolo e poi di recente ho cambiato macchina e quando mi è ricapitato di farlo in quella macchina ho detto no 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 anche perché quante posizioni puoi fare effettivamente dentro una macchina due o tre due o tre proprio larghe cioè proprio sì 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 è comunque simili sì a meno che poi non esci dalla macchina ma esci comunque dentro la macchina però magari è gennaio cioè rischi di non arrivarci poi non tornarci a casa cioè sta tutto esatto tremendo e sul divano ho dormito per anni sul divano perché non avevo una casa ok quindi l'ho fatto spesso sul divano approvato è un letto alla fine cioè tipo il divano anzi pure più comodo perché c'è lo schienale sì no infatti cioè fa più cose c'ha della roba che può essere molto figa in doccia? bello in doccia backstage? no backstage porto hotel ah ok perfetto perfetto galantuomo sì dai backstage è successo l'estate non questa quella prima dai backstage vai backstage ok quest'altra parte si chiama domandine infamine vai hai mai mandato un nudino? no proprio no non mando foto del mai ok cioè hai mai mandato un nudino alla persona sbagliata però no non mando nudini hai escluso ok Diego Nasca non manda nudini col cazzo eh no anche perché io penso che poi è un attimo che screen è un attimo che screen e dice ma no dai politichi e fa l'infamata non ti manderò mai nessuna foto una volta l'avevo mandata ma non era proprio un meme perché non era il mio ah ok ok sì ma hai detto me lo mandi la foto certo come no google immagini ma ti capita mai quella roba che tipo scambi due messaggi con una tipa e va di in giro che si sente con te anzi mi ha creato pure dei problemi a volte questa cosa qui a me è una cosa che mi manda fuori di testa perché se ti seguo una persona che stai giocando e ti ho scritto tre messaggi poco fa è successo che ho scoperto che una tipa diceva che stavamo uscendo cazzo guardo il cellulare gli avevo risposto mi aveva taggato e avevo risposto due volte a un messaggio un anno e mezzo fa eh beh loro c'hanno My Melody non lo so capita capita ok tiene una nota col body count eh tiene una nota col body count no impossibile ho perso il conto anni fa questa è la risposta più bella che se può dare ho perso il conto anni fa giocatore dimenticato il nome di qualcuno portato a casa dici mi ricordo il nome di quattro persone come la amministri quando non ti ricordi il nome e sei durante l'atto non dico il nome non dici faccio la frase senza dire per forza non è che dove e non c'hai tipo trick tipo baby cose del genere non so meritano baby quindi che mi dicevi prima è che devo dirgli ciao diventano quindi ok fatto nel bagno una volta è successo bruttissimo vabbè queste proprio cattive questa è Nasca che parla non Diego Diego è un cucciolone una volta gli ho detto dai ti chiamo il taxi taxi arrivo gli dico la via mi fa a che nome lo metto che nome vabbè gli hai chiamato il taxi però però infatti è stata equilibrata come quello l'hanno fatto il mio nome non lo sai c'è un vuoto c'è un attimo successo ho fatto rete però ci può stare ci può stare può capitare infatti dopo sempre Uber fatto nel bagno nella discoteca ti è mai capitato sì ok bagno nella discoteca o bagno nel ristorante discoteca bellissima risposta concordo perché il bagno nel ristorante è troppo pettinante invece la discoteca c'è tutto quel vibe l'ho fatto in discoteca nei bagni del Rocket nei bagni del Rocket giusto giusto fatto la cacca dopo la prima notte insieme sì che me ne frega guarda che ho fatto guarda la cacca di Nasca guarda che bestia dormito durante l'atto ti sei mai addormentato? oddio una volta è successo già racconti? ero briachissimo stava facendo pompino sì sì sono morto dici guarda è stato talmente bello che mi hai fatto svenire domani lo puoi dire non so se ero addormentato svenuto proprio sul letto però e ti ha svegliato cioè come no sono svegliato non c'era più nessuno stava di bellissimo ma non è bellissimo cioè gli hai riscritto gli hai detto tipo scusa finita mai più vista cioè ti ha messo a dormire ti ha fatto tipo la ninna e se n'è andata sono svegliato perfetto figo alla fine è figo posto più strano in cui l'hai fatto casa di nonna con nonna che faceva la sarta dall'altra parte c'era nonna dentro casa che cuciva con il canale 5 acceso e te povera nonna si è arrabbiata ha capito subito ha capito sì sì certo quindi è arrivata arriva le è arrivata con l'acqua arrivava in fondo mi ha detto quando stavo uscendo mi richiama mai più io ho detto scusa elegantissima comunque ero piccolo forse la prima volta 18 anni no 16-17 è la prima volta che lo si fa ovunque ovunque è una cosa incredibile ciao nonna nonna adesso ho comprato il cellulare ho iniziato youtube twitch spotify segue tutto nonna allora la salutiamo ciao cesarina fatto da fatto c'era scritta c'era scritta l'ho lato forse più volte più volte l'ho fatto da fatto che da sobrio qual è la sostanza che ti piace di più da abbinare al sesso l'alcol davvero? sì l'alcol mi distrugge completamente la libido no no l'alcol se sono un po' ubriaco però è il giusto sfondato se sono un po' il giusto posso andare avanti le ore ok a me fa una cosa strana c'è tipo un benchmark che superato quello non c'ho più il desiderio diventa una cosa con gli altri io ho il triplo sono un po' ubriaco sono rapato il triplo sì no fino al benchmark pure io così però poi dopo no no io continuo essere rapato fino alla fine fino alla fine sì sì fino a che non ti addormenti fino a che non crollo va bene Diego io ti ringrazio tantissimo è stato bello una bella chiacchierata e Daie per le date al Fabric vi invito poi venite lo aspetto va benissimo con piacere 29 e 30 novembre e ascoltate assolutamente l'ultimo disco la versione di Lax Diego e Daie grazie grazie a te